Siumatsu wa it's mo nani wo shimasu ka? Che cosa fa di solito il fine settimana? Yolu wa taitei nani wo shimasu ka? Che cosa fa di solito la sera? Nenu mai wa nani wo shimasu ka? Che cosa fa prima di dormire? O hiru gohan wa it's mo doko de tabemasu ka? Dove pranza di solito? Anata no shumi wa nandesuka? Quali sono i suoi passatempi? Di che cosa è appassionato? Che cosa fai nei giorni festivi? Che cosa fai quando sei a casa? Qual è il suo attore preferito? Qual è il suo libro preferito? Che film le piacciono? Qual è il suo sport preferito? Tutte le settimane esco con amici Vado in palestra Ogni giorno sono oberato di lavoro Yolu wa telebi wo mite sugo shimasu La sera guardo la tv Kare to shu ni ikkai wa deeto ho shimasu Vedo il mio ragazzo una volta alla settimana Leggo sempre prima di dormire Spesso parlo a lungo o al telefono con amici Vado al lavoro in bicicletta Mentre vado al lavoro in treno Leggo il giornale Nei giorni festivi esco con i miei figli Il fine settimana vado al cinema Vado spesso a bere con i colleghi La mattina appena mi sveglio faccio la doccia La sera vado a lezione di italiano Ascolto la musica Soprattutto il jazz Adoro andare al teatro o al cinema Leggo spesso libri Mi interessa la storia italiana Di solito vado a bere qualcosa con amici Quando sono a casa Mi piace molto guardare la tv Vado matto per gli acquisti online Ora sto creando il mio sito internet Seguo un corso di flamenco È molto divertente Adoro il caffè Mi porto il pranzo da casa Pranzo fuori con i colleghi Recentemente ho iniziato a fare yoga Quando non lavoro sto a casa a dormire Perché sono sempre stanco Vado spesso a sentire un gruppo musicale di amici In una live house A casa gioco con il mio cane Il fine settimana vedo spesso dei video a casa Chiudizu wa tomodachi to sports o shite iru koto ga oi desu Nei giorni festivi Faccio spesso sport con amici Studio inglese per hobby e per lavoro Mi piacciono un sacco i telefilm Il mio sport preferito è il baseball Non vedo molti film Non ho nessun hobby in particolare Non ho nessun hobby in particolare È un bel passatempo È un bel passatempo Sembra che abbiamo passatempo simili Posso partecipare anch'io Go kyo dai vai masuka? A fratelli? Go riosi non o genki desuka? Come stanno i suoi genitori? Go riosi non o sonde o raril no desuka? Habita con i suoi genitori? O kosaun vai masuka? A figli? Go kekkon saれて il no desuka? Espusato? Che cosa fanno i suoi genitori? Che lavoro fa suo marito? Quanti anni ha sua sorella? Ha qualche animale? Sono figlio unico. Sono la sorella maggiore. Sono il secondo figlio. Sono la più piccola di tre sorelle. La mia famiglia è composta dai miei genitori, mio fratello, mia sorella ed io. Ho due sorelle più grandi. Abito con i miei genitori e mia nonna. In famiglia siamo in quattro. Sono singolo. Checconしています. Sono sposato. Mi sono sposato l'anno scorso. Ho un marito e due figli. Abbito con i miei suoceri. Mentre i miei fratelli sono molto uniti. Mi manca perché è da un po' che non lo sento. Telefono spesso a mia madre. Per me la famiglia è una cosa insostituibile. Penso di vivere con i miei quando saranno anziani. Così potrò occuparmi di loro. Mio padre non vive con noi per via del suo lavoro. Mia madre è morta dieci anni fa. I miei sono agricoltori. I miei sono dipendenti statali. Mia moglie ed io lavoriamo. Mi dedico molto alla famiglia. I miei erano molto severi con noi. Sono molto permissivi con i loro figli. Sono un tipo casalingo. Il loro rapporto di coppia si è raffreddato. Il mio marito torna sempre tardi dal lavoro. Vivo solo per il lavoro. Sono talmente occupato che non sono quasi mai a casa. Mi occupo dei miei a casa. Mia madre aiuta mio padre nel suo lavoro. Ho un lavoro part-time. Mi dedico molto al volontariato. Sono molto impegnata con i figli e i lavori di casa. La mia figlia è sposa. Esco spesso con mia figlia. Il mio figlio studia all'estero. Ho un gatto. Il mio cane è un membro della famiglia. Trascorro il Natale con i parenti Ho dei parenti in Italia Mio figlio vive in Italia Mio marito adora l'Italia E' un caro amico Li frequentavo spesso quando eravamo studenti Beviamo spesso qualcosa insieme E' una mia compagna di liceo E' un vecchio amico Com'è la persona con cui sta insieme? Che tipo è lui? Come l'ha incontrato? E' una persona gentile E' tranquilla E' affettuosa E' un tipo frenetico E' un tipo intraprendente E' divertentissimo Majime na hito des E' una persona seria E' un egocentrico E' un egocentrico E' molto premuroso E' un tipo suscettibile E' un tipo lunatico E' una persona avida Non si sa mai cosa stia pensando E' un po' paffuta E' molto carina E' bellissima E' un bel fisico E' veramente attraente E' bellissimo, vero? Kare wa to te mo steki desu E' veramente affascinante Gaike wa futsu desu Non è particolarmente bello Se ga takai desu E' alto Se ga hikui desu E' basso Me ga oki Agli occhi grandi Me ga chisai Agli occhi piccoli Hana ga takai Ha un bel naso Hana ga hikui Ha un naso piccolo Kanojo wa megane o kakete imas Porta gli occhiali Kare wa hige o haya ste imas Alla barba Kinpatsu desu Ai capelli biondi Suki ni datta mitai Credo di essermi innamorato Koi ni otchimashita Mi sono innamorato Hito me boreshimashita E' stato un colpo di fulmine Voglio conoscerti meglio Konaia doosuru Kosa fai stasera? Anata no koto o mo te Yoru mo nemuremasen La notte non faccio altro Che pensare a te Tsukiyate kuremasen ka? Vuoi metterti con me? Ai shite imas Ti amo Bara no yoni kirei da yo E' bella come una rosa Anata shika me ni hairanai Per me ci sei solo tu Bokura wa ishjo ni nalu tame ni umarete kita yo na mono desu Siamo nati per stare insieme Anata no egao Yume ni made mimashita Vedo i tuoi sorrisi Anche nei sogni Kimi ni haitakute Tamari masen desita Non vedevo l'ora di incontrarti Aitakute shikata ga nai Non vedo l'ora di vederti Watashi mo anata ga suki desu Anche tu mi piaci Arigatou Yorokonde tsuki aimasu Si mettiamoci insieme Gomen nasai Anata no koto wa suki dewa arimasen Scusa ma non sei il mio tipo Hoka ni suki na hito ga imas Amo qualcun altro Anata wa daiski na tomodachi desu Ti voglio bene come amico Watashi wa Raoul Boba ni koi shite shimaimashita Mi sono innamorata di Raoul Bova Kare wa Monika Bellucci ni akogarete imas Gli piace moltissimo Monika Bellucci Gabriel Garco ni muchu desu Mi piace da morire Gabriel Garco Tanjo wa hontou ni bijin desu yone E' veramente bellissima non credi? Kare no kokoro o hitorizime shitai Lo voglio tutto per me Watashi no ai wo kanojo ni tsutaete kuremasen ka? Puoi dirle cosa sento per lei? Kare no maa ni delu to kinchou shite hanasenakunaru Davanti a lui mi blocco e non riesco più a parlare Ano hitu wa watashi ni ki ga aru no kano? Pensi che gli piaccia? Kare la wa rio omoi desu Sono molto innamorati Kare la wa riso teki na kappu desu Sono una coppia ideale Kare la wa san kafu kankeng no chitte imas Hanno una storia d'amore triangolare Kare la wa tsuki ahte ita keredo Ima wa wakareta Stavano insieme ma si sono lasciati Kare la wa wakareta rashi Sembra che si siano lasciati Saikin kanojo ni fulareta rashi yo Pare che l'abbia lasciato Koi bitoto wa kare to uchikonde imas Sono giu di morale perchè ho rotto con il mio compagno Kare to ha tomodachi iso no kankeng ni wa nare masen Per me è solo un amico Watashi wa kare no konomi no josei janai Non sono il suo tipo Kare wa watashi no kaitu janai Non è il mio tipo Ano ko wa kimi ni ya kimotsi yo yaite iru nda yo Quella ragazza è gelosa di te Kare ni wa mo a itaku nai Non lo voglio più vedere